carissimi amiche carissimi amici buongiorno buongiorno del vostro caro giocherellone il vostro caro amico il vostro caro streamer che oggi vi porta a gundam breaker 4 pensate un pochettino un fantastico picchiaduro ad incontri con tutti i mobile suite della bandai namco quindi stiamo parlando di titoloni sicuramente di un titolone veramente fantastico e da tantissimi atteso soprattutto al sottoscritto come ben sapete sono una grande amante di gundam e anche dei gampla praticamente che sono i modellini di gundam se volete approfondire l'argomento andate sul mio canale e andate sul mio canale youtube e cercate ovviamente gampla o gundam per farvi capire andiamo a vedere gundam breaker che cosa ci propone praticamente che cosa ci propone io avevo già iniziato a testare questo gioco oltretutto tutto quanto in italiano ecco qua come nickname metteremo il nome del giocatore però giocherellone ecco qua e andiamo ovviamente a selezionare selezionare la possibilità di giocare graficamente molto bello molto pulito sembra proprio di giocare con i gampla praticamente con i gampla che però si possono muovere oppure con delle delle praticamente degli elementi vedete ragazzi dei giocattoli quindi veramente qualcosa di fantastico tendenzialmente i gampla e i modellini di diciamo i gampla per lo come sono concepiti robot praticamente per come sono appunto concepiti guardate un pochettino qui andiamo ovviamente verso la zona del tutorial dove ci sono addirittura questi orsacchiotti robotici ti do almeno questa postazione di gb è la prima volta che giochi sia ottima essendo l'automobile molto semplice simulato il battaglia sistema dei pezzi e le missioni gp in gp4 si inizia scegliendo uno tra le varie missioni disponibili tutte interessanti ed emozionanti pensate un pochettino quindi molto molto gradevole andiamo a vedere cos'altro si fa durante le missioni giocatori ottengono nuovi pezzi sconfiggenti nel media poi possono migliorare diventare più potenti all'inizio possibile selezionare solo missioni storia altrimenti missioni saranno disponibili più avanti però è tutto quello che deve sapere se altre domande reggimano online buona fortuna state buona e salutoci a mamma praticamente come diceva qualcuno vedete un pochettino questo gamp là dietro lo tengo lo ho assemblato praticamente se ben ricordi c'è la prima volta che giochi ecco qua un gundam super deformed come potete vedere sono sbocato fuori da luna stavo girando tanto qua e là quindi ho pensato che fosse la tua prima volta qui puoi dirlo forte ecco qua la mia prima volta ecco qua sono un gundam un RX 78 lo sapevo io sono tau e come vedi di base sono un giocatore di S di gundam però mi sto appassionando a gundam break 4 quindi tu sei giocherellone piacere di conoscerti ciao ciao stati bene ecco qua e se ne va guardate che bello il gundam ti va di giocare una missione insieme visto che è la tua prima volta posso darti qualche consiglio ci stai ok giochiamo cominciamo con calma per la tua prima missione giochiamo solo il tutorial è davvero poco impegnato e ho pensato in modo che chiunque possa superarlo anche tu ecco qua penso poi ti non sei pronto quando lo sei tu sono pronto perfetto fammi giocare praticamente il mano il mano in mano praticamente il mano in mano andiamo a vedere caricamenti anche molto veloci devo dire la verità e grafica molto ma molto pulita ecco qua inizia la missione inizia il tutorial adesso vi faccio vedere com'è bello questo gioco bene iniziamo la tua prima missione per ora segui la guida andiamo a camminare andiamo a camminare io l'ho già affrontata quindi prendi il tempo che ti serve prendi il tempo della vita praticamente il benvenuto alla missione tutorial qui a prendere i movimenti di base giochi e seguire le istruzioni dello schermo teniamo premuto e togliamo praticamente ecco qua l per muoverti e premia per il movimento e seguire una propulsione perfetto andiamo a fare la propulsione mamma mia ragazzi vedete quindi possiamo andare addirittura non solo a saltare come potete vedere guardate il propulsore mamma mia ragazzi è molto bello e quindi possiamo fare anche diciamo una picchiata ci sono una serie contro misure scrivere le azioni nemiche guarda a sollevare il tuo scudo per bloccare un attacco riducendo il danno subito e proteggendo dalla confusione e dallo sbalzamento se blocchi più attacchi consecutive il tuo scudo verrà sbalzato ma via non potrà più difenderti finché lo scudo non torna scrivata ti consente morti velocemente per scavare un attacco non subirei attacchi muovendoti velocemente rilascio l'emergenza ti consente scavare gli attacchi aerei aggiuntivi scendendo di quote atterrando scrivete rilascio l'emergenza